Ciao Eugenio, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, volevo chiederti se ritieni che questa possa essere già una prima tappa spartiacque della stagione, nel senso visto il percorso dal quale venite, visto come sta evolvendo la classifica, visto che la posizione promozione diretta per quanto non è l'obiettivo primario si sta allontanando, volevo capire tu che tipo di significato d'Avi a questa partita a Lucca Tanzaro? Da un grande significato perché dobbiamo dare continuità al pareggio fatto a Terni, dobbiamo farlo con una prestazione nella durata migliore, nel senso che secondo me a Terni abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo normale, fare una partita normale non basta e dunque vogliamo dare continuità a questo tipo di prestazione, la reazione che c'è stata, purtroppo non su tutta la partita e dimostrarla in campo con grande applicazione, dedizione, passione e di conseguenza chi verrà a sostenere la squadra è a vedere la squadra che è reattiva, che combatte, che lotta, che lavora e dunque ho piena consapevolezza che dobbiamo fare un certo tipo di prestazione per portare a caso un risultato importante. Senti, volevo partire da alcune parole dette da Luccioni al dopogara, ha detto i problemi non si possono risolvere in dieci giorni, due settimane, adesso mi ricordo precisamente, ma voi avete capito quali sono i problemi? Il problema è che se ti mancano cinque giocatori importanti ai meno soluzioni, all'inizio del campionato abbiamo vinto un sacco di partite con i cambi e spesso voi mi avete fatto domande inerenti a questo tema perché le partite sono lunghe e avere una panchina di un certo tipo aiuta e probabilmente qualche calo che c'è stato nel secondo tempo è stato anche dovuto al fatto di non essersi allenati tutti insieme, di conseguenza e non aver avuto magari in determinate situazioni che i cambi che ti possono aiutare a portare la partita dove vuoi tu e di conseguenza questo è sicuramente un tema che ha tolto qualcosa alla squadra. Penso che sicuramente la partita con l'Ecco, che era una partita per noi molto importante, preparata con grande attenzione, poi non è andata come noi volevamo, ha lasciato qualche strascico per quello che è derivata dopo sulla prestazione di Genova, nonostante la squadra poi per me abbia reagito bene, ha vinto la partita col Brescia e dunque è una situazione particolare, questo mese a cavallo tra ottobre e novembre sicuramente è stato particolare sotto tanti punti di vista, non si può mai pensare che le cose arrivino da sole, ci devi sempre mettere del tuo e dunque è stato un calo complessivo su determinate situazioni, alcune legate come dicevo a livello numerico della Rosa con qualche problema che abbiamo avuto, alcune legate al fatto che magari inconsapevolmente si è pensato che bastava fare una virgola in meno e invece non ce lo possiamo permettere e di conseguenza tutto questo ha portato a questo trend che non è stato quello che noi tutti volevamo ma che nel primo tempo di Terni soprattutto ho visto che le energie nervose di cui avevo bisogno di sentire, ci sono state, non abbiamo indirizzato la partita come dovevamo farlo e purtroppo abbiamo pagato nel secondo tempo il loro gol e il fatto di non essere poi riusciti a vincere la gara. L'ultima per me, hai fatto accenno all'indisponibilità, agli infortuni, una squadra come il Minan che gioca ogni tre giorni ha un problema molto grosso sotto questo punto di vista e Pioli ha detto mi preoccupa questo problema, tu in relazione al Palermo riguarda un problema che sta diventando consistente, sei preoccupato? Da cinque siamo diventati quattro, l'unico problema che abbiamo avuto è stato con Lucioni questa settimana perché ha avuto la febbre e di conseguenza ha saltato gli allenamenti e ha fatto solo l'allenamento di rifinitura, dunque la situazione sta migliorando, sicuramente nelle valutazioni che andiamo a fare, l'ho già detto qualche settimana fa, si fa valutare tutto, cosa si può fare meglio rispetto a tantissimi temi che abbiamo, di conseguenza è stato un momento oggettivamente delicato da questo punto di vista, è anche un momento per riflettere su tante cose globali, l'è stato fatto su tutte le aree che poi vanno a completare, quello con lo staff tecnico e c'è grande confronto e grande voglia di capire cosa possiamo fare in più per migliorare questo tipo di situazione, c'è una componente a volte legata all'indefinito che bisogna anche accettare in un mestiere che è fatto di contrasti, di resistenza, di forza, di conseguenza può capitare, però c'è stata grande attenzione e una valutazione profonda anche su questo tema per capire cosa possiamo fare in più. Assolutamente, ma non penso che ci sia un allenatore al mondo a cui non dispiace avere tutti i giocatori a disposizione, come vi ho detto è stato un grande valore per noi all'inizio dell'anno, l'abbiamo fatto e dimostrato, se siamo stati la squadra che negli ultimi 15 minuti e nei minuti recuperi ha fatto più gol, c'era un motivo perché riusciamo a farlo, l'intensità e il livello era molto alto, i cambi erano reattivi su una squadra di un certo tipo a tenere l'inerzia della partita alta e a cambiarla a volte dal punto di vista tattico, questo ci ha permesso di vincere tante partite, dunque si parla di qualcosa di un mese e mezzo fa, non di un'era fa, di conseguenza sappiamo che lo possiamo fare, certe cose, è un primo passaggio recuperare i giocatori, la situazione è migliorata perché come dicevo da 5 siamo diventati 4, anche se Federico rientra e probabilmente avrà un taglio di partita corto, ma ho un giocatore in più a disposizione che sarebbe stato importante avere anche a terra. Ciao Eugenio, buon poveriggio, Paolo Venire, Corriere lo Sport, io vorrei fare due domande, una è come dire ambientale ed una tecnica, quella ambientale è, insomma a te se non sono date le critiche di sono reale da tutti i lati, inutile nasconderlo, ma una cosa che non ti è mai stata diciamo, che ti è stata sempre riconosciuta è la tua grande, come posso dire, onesta intellettuale di fondo. Ora, tu ti senti in questo momento nella, come dire, in una situazione sufficientemente serena per gestire un'attesa che è diventata molto pesante, forse sono state sbagliate alcune cose all'inizio, magari nella comunicazione, però oggettivamente oggi c'è una forte delusione di cui tu ti fai fondamentalmente carico. Il rischio non è quello che la squadra paghi questo tipo di serenità mancante. Tu dici bene il primo tempo, ma io ho visto che dopo dieci secondi un giocatore del Palermo ha perso una palla passandola indietro come se non fosse sereno nell'iniziare la partita e mi pare che tu stesso hai detto che il Palermo ha cominciato molto contratto. Voglio dire, come si esce da uno stato di pesantezza ambientale? Questa serenità cosa puoi fare? Attenzione, cerchiamo di vederla in una maniera per battere il Catanzaro. Cosa puoi fare per dare serenità alla squadra? La seconda tecnica, se vuoi te la faccio subito, manca un pizzico di fantasia ad una squadra che nelle ultime partite ha fatto un po' di fatica a trovare il gol e l'ha trovato soltanto o sul rigore o con Coulibaly, una bella azione, ma poi o sul rigore o sul calcio d'angolo e c'è qualche cosa nel tuo organico che ti può permettere di aumentare questo tasso di fantasia o lo devi chiedere essenzialmente ai giocatori? Qualcosa di più dei giocatori in questo momento? Guarda, se non avessi la lucidità e non avessi la percezione di avere un gruppo coeso e forte che in certi momenti deve affrontare quello che determina la critica o l'opinione pubblica o il tifoso stesso, non sarei qui a parlare in una certa maniera. Di conseguenza sono consapevole dell'energia che devo avere per fare questo ruolo, la trasmetto ai miei giocatori, in questo momento subiamo critiche, ma io penso sempre che quando hai la possibilità e hai a disposizione il tempo puoi sempre reagire a questo stato emotivo e di conseguenza è la prestazione e la squadra. Tante volte e soprattutto a Palermo si è stati abituati nel tempo, nel massimo stress di qualche partita è andata bene e il creatore veniva cambiato, dunque questa è anche una rivoluzione culturale rispetto alle abitudini che tendenzialmente e generalmente ci sono in Italia e magari a Palermo soprattutto negli ultimi 15 anni c'è stata ancora di più rispetto ad altre situazioni. Di conseguenza questo è una consapevolezza di qualcosa che sta cambiando e come vi ho detto l'altra volta se non sentissi l'appoggio della società, se non sentissi l'appoggio dei miei giocatori non sarei qua a determinare certe situazioni e a assumermi quello che è giusto che si assuma a livello di responsabilità il mio ruolo ma penso di avere anche le qualità e il supporto da parte di tutti per uscire a questa situazione perché poi come dico spesso penso che il tifoso voglia vedere vincere la squadra ed è pronto poi a ribaltare questo stato emotivo che in questo momento è di delusione e può diventare di gioia e di sostegno dunque questo è il nostro primo compito, far sì che come è stato e penso allo stadio straordinario che c'è stato con lo Spezia e non si parla di anni fa possa tornare presto ma dipenderà da noi, dalle prestazioni, dei risultati che andremo a fare. Poi il discorso della fantasia è normale, in queste partite sono mancati due giocatori come Di Francesco e Insigne che da questo punto di vista possono darti qualcosa in più, si sta cercando di capire con altre caratteristiche come arrivare al gol. Per me è vero come dici tu, Alex ha sbagliato il primo retropassaggio e questo già nei primi cinque minuti tra un paio di calci d'angolo loro in una partita già che il pallone pesava ma è calcio ragazzi ma quante partite si giocano dentro una partita? Se io andrei a farti vedere anche le partite che abbiamo vinto ci sono stati momenti dove l'avversario può aver fatto qualcosa ma non puoi pensare di nominare 95 minuti, anche gli avversari hanno qualità, caratteristiche e la squadra ha reagito a questo inizio di qualche minuto facendo un primo tempo importante e andando a colpire una traversa da sette metri dalla porta, andando a prendersi un colpo di testa salvato sulla linea di fondo, tirando in porta con Mancuso il portiere ha fatto una bella parata e queste sono occasioni importanti, in conseguenza bisogna perseverare, andare dentro, sicuramente gestire le situazioni quando la squadra avversaria può crearti qualche difficoltà e quando abbiamo la palla continuare a fare le cose che facciamo cercando di migliorarci sotto tanti punti di vista che poi è una ricerca continua durante l'anno, sempre e comunque. Eugenio, sono qui, Dario Filippone e Repubblica. Tu avevi detto prima che la partita con la Ternana ti aspettavi una reazione forte da parte dei giocatori, voglio chiederti se oggettivamente davvero tu hai visto che questa reazione emotiva e psicologica c'è stata o se è stato, non so, questo può essere un giudizio personale un po' poco rispetto a quello che comunque ci si aspettava in un momento così difficile e che cosa ti aspetti in questa partita che sarà tra l'altro di nuovo al Barbera dove purtroppo il percorso della squadra è stato diverso dal punto di vista soprattutto secondo me emotivo e psicologico rispetto alle gare in trasferta. Guarda, in questo momento anche qualcosa che fai di positivo non ti è riconosciuto e dunque è difficile, non voglio neanche star qua a dire cosa, perché e per come. In questo momento non va bene niente, devi accettare che da una gran parte della tifoseria ci sia questo sentimento di delusione e noi dobbiamo accettarlo, ma io che ho una responsabilità devo sapere le cose che devo migliorare ma anche sapere dove posso appoggiarmi per far sì che le cose che facciamo bene possono consolidarsi e diventare in percentuale meglio di quello che sono le cose che in questo momento non vanno. Dunque per me la reazione c'è stata, poi dopo non è stata portata avanti sulla lunghezza della partita, non abbiamo saputo leggere la partita in determinate situazioni, abbiamo fatto un errore che ha permesso loro il gol del pareggio, ma c'è stata e come detto è stato fatto in queste due settimane che precedevano la partita, era un lavoro molto importante sotto tanti punti di vista e sono sicuro che questo lavoro nel tempo produrrà degli effetti, in questo momento giustamente il tifoso vuole solo vedere la partita, la prestazione e il risultato e noi ci prepariamo per fare domani. Prestazione e il risultato col Catanzaro e il campo poi determinarà quello che siamo stati capaci di fare. Buon pomeriggio mister, Massimiliano Radicini, giornale di Sicilia, ecco da questo punto di vista poco fa diceva che ora allo stadio vedrà comunque una squadra che è lotta, che tipo di ambiente si aspetta domani? Dipenderà molto quello che riuscirà a fare la squadra e di conseguenza l'atteggiamento che avrà, quanto riusciremo a fare una buona partita sotto tanti punti di vista e sono sicuro che questo può trascinare il pubblico a dare una mano alla squadra, dobbiamo sapere che in certi momenti magari ci sarà qualche fischio, qualche momento di difficoltà e come sempre è importante la squadra in quel momento come reagisce e come sta dentro. Quello che è stata la difficoltà degli ultimi 25-30 minuti del Cittadella è stato qualcosa che è stato fra virgolette un insegnamento nel negativo di quello che non bisogna fare nel momento di difficoltà dove magari il pubblico non è contento. Dunque i protagonisti sono i giocatori, io che li dirigo e di conseguenza è un'assunzione di responsabilità che dobbiamo avere e dobbiamo reggere lo stress emotivo di una situazione che magari non sarà quella che era con lo stadio e con lo Spezia. Può capitare e la capacità della squadra è reagire a questo stato di difficoltà e portare la partita dove la vogliamo portare facendo vedere che la squadra lotta, combatte e che cerca di attaccare per fare gol. Si parla spesso di bel gioco, probabilmente il Catanzaro dal punto di vista estetico è forse la squadra, almeno a mio avviso, che esprime il calcio più propositivo. Qual è l'aspetto che teme di più della formazione di Vivarini? È un percorso che parte da lontano, dove Vivarini subentrò e non riuscì a vincere il campionato del primo anno, l'anno scorso hanno fatto un grandissimo campionato, vinto veramente alla grande, giocando molto bene, questo entusiasmo l'hanno portato in una categoria superiore, stanno facendo molto bene. L'entusiasmo che c'era in Catanzaro Cosenza la partita scorsa, nonostante venissero da tre sconfitte, certifica che è una squadra che sta giocando con leggerenza, con entusiasmo, è un ambiente che supporta, dunque a piena consapevolezza di una squadra che gioca bene, che ha qualità e viene da un punto di vista anche dal punto di vista mentale, con quella leggerezza che ti fa fare le giocate, che ti rende libero mentalmente, dunque sappiamo che troveremo da questo punto di vista un avversario tosto e qualitativo. Buon pomeriggio mister Androficarla di Mediol.it, due domande, io ricordo il secondo tempo arrembante, intenso contro lo Spezia, quando il Palermo proprio di fisico, anche di muscoli atleticamente riuscì a recuperare il doppio svantaggio, ecco una delle cose che maggiormente è venuta a me, non mi avviso, in queste partite è stata proprio l'intensità, la brillantezza, il ritmo. Viene difficile pensare che possa essere stata sbagliata qualcosa a livello atletico, quindi le chiedo se è solo un problema di matrice psicologica legata al momento complesso e alla mancanza di risultati, poi le faccio la seconda. Ma sai, è un complesso di cose, c'è dentro tutto, c'è dentro magari un caldo dal punto di vista atletico, c'è dentro i giocatori che si sono infortunati, che ti hanno dato meno opzioni, c'è dentro sicuramente anche un aspetto mentale che per me è derivato dalla sconfitta con l'Ecco, che qualche scoria l'ha lasciata, ci siamo trascinati dentro qualcosa, nonostante questo per me la squadra aveva reagito bene vincendo la partita col Brescia, che era il primo momento delicato della stagione, comunque l'abbiamo buttata dentro vincendo una partita secondo me importantissima da questo punto di vista, ci siamo assunti la responsabilità di un secondo tempo non fatto bene col Citella, ma per me la squadra nel primo tempo ha fatto vedere delle cose, è venuto fuori questo pareggio a Terni, che non è quello che noi sognavamo, ma so anche da dove arriviamo e quanto c'è bisogno di consolidare questo che abbiamo messo dentro, in un momento dove giustamente come dicevo prima non ti ha riconosciuto niente, vengono solo valutati gli aspetti negativi e va bene, noi cerchiamo di capire quali sono gli aspetti negativi, noi abbiamo la piena consapevolezza su cosa dobbiamo lavorare, ma sappiamo anche che abbiamo una base buona su cui partire e che abbiamo già dimostrato di saper fare. Ok, questa è una domanda che le pongo con spirito prevalentemente costruttivo, ovviamente si cerca di capire, di focalizzare le varie criticità, in quella settimana di autoanalisi e di confronto tra tutte le parti in seno al club, lei è stato un calciatore, quindi chiaramente nessuno meglio di lei conosce il linguaggio del corpo, lo stato d'animo, determinati segnali da parte dei componenti della rosa. è emersa una sorta di insofferenza o magari scarsa idoneità ai suoi principi di calcio da parte di qualcuno o nel momento in cui si è affrontato questo tema lei ha avuto dalla squadra una risposta perentoria, netta, chiara, ovvero non esiste un problema di empatia, di connessione, di conformità tra le sue idee e parte della squadra. Ragazzi, ci metto la mano sul fuoco da questo punto di vista, veramente, nella maniera più assoluta, senza bisogno di aggiungere qualcos'altro, perché abbiamo fatto un percorso con tanti ragazzi che parte dall'anno scorso, con chi è iniziato quest'anno e partito su determinati principi che sono portati avanti, vi ho già ribadito e vi ho già detto che i momenti di difficoltà ci sono, bisogna affrontarli da uomini, con carattere, con volontà, a testa alta, guardandosi negli occhi, le persone quando si confrontano per me è sempre un valore, ma è un confronto costruttivo per far sì che le cose possano migliorare, ma i determinati principi, i determinati concetti tecnico, tattici, comportamentali sono chiari per tutti e la squadra a questo punto di vista è connessa e ha la volontà di portare avanti qualcosa in cui per me siamo tutti dentro e tutti ci sentiamo questa responsabilità, ma anche la capacità di portarle avanti. Ciao Eugenio Guido, Manastra Stadio News, non ci giro intorno perché già un po' hai risposto quest'ultima risposta, però credo che serva una smentita bella secca su voci che girano, voci non controllate, sottolineo il non maiuscolo e non verificabili, sottolineo il non, su presunti problemi all'interno dello spogliatoio, qualche lite fra giocatori, qualche infortunio diciamo un po' così, sai le solite cose che poi quando le cose vanno male sono sempre più facili da far girare, non l'ho visto sulla stampa quindi non è un problema che riguarda la stampa, però sui social, ai bar sai benissimo come funziona qua la comunicazione su Palermo, quindi dammi una conferma, si sono picchiati oppure no. L'hai detto tu, sono minchiati. La terminologia va bene. Seconda cosa, dopo il disastro di Torretta avete cambiato programmazione, è un problema per te il fatto di allenarti a Palermo, di cambiare un po' non so quanto i programmi? Il corso è stato un anno da questo punto di vista che ci ha messo delle condizioni di essere reattivi a tutti, la società è stata reattiva, qua lo stadio abbiamo tutto, un bellissimo campo per giocare, abbiamo attivato tutto quello che è il contorno che serve a livello di palestra e di altre situazioni, dunque siamo a posto, dispiace purtroppo quello che è successo, la cosa fondamentale è che non si sia fatto male a nessuno in quel momento e poi purtroppo la situazione è questa e dobbiamo essere reattivi a quello che è successo. Te lo chiedo anche un po', siccome qualcuno pensava forse il terreno di Torretta ancora è troppo duro, troppo morbido, troppo ancora all'inizio, può essere che magari allenandovi qui perdi sotto certi aspetti la pulizia del campo per la partita settimanale, però forse... Io capisco che in questo momento, come le cose che mi hai chiesto, vale tutto quando le cose non vanno bene. Ti faccio un ragionamento un po' più ampio, vale tutto da chi racconta una cosa, a chi ne racconta un'altra, le abbiamo definite minchiate perché ribadisco che sono minchiate. Il discorso quando fai dei terreni di gioco hanno bisogno di un tempo fisiologico per assestarsi, è normale e di conseguenza i due campi ci sono, saranno sicuramente straordinariamente belli dopo che si saranno assestati, in questo momento abbiamo cercato di capire come usarli per mantenerne uno buono e far curare l'altro e questo è stato fatto a Torretta ed è normale che ci sia un adattamento ai campi, è fisiologico chi fa calcio, parlate con qualsiasi preparatore atletico, dottore, chiedete la superficie dove ti alleni, ci sono determinate cose. È successo quello che è successo, saremo stati molto felici di continuare il nostro percorso là perché avere un centro sportivo ribadisco è qualcosa di straordinario, siamo venuti qua, abbiamo uno stadio che il campo è buono, purtroppo lo rovineremo un po', ma sicuramente abbiamo un campo buono, abbiamo tutte le strutture che servono per allenarci comunque al meglio. Quindi magari c'è qualche infortunio muscolare in meno. Non te lo so dire, lo dirà al tempo, non voglio dirlo perché mai riporta anche male. L'ultima cosa è finisco perché ho monopolizzato un po' troppo, grazie Andrea, e mi pare di capire che tu non distingui fra presunte partite facili o presunte partite difficili perché hai battuto le grandi, hai avuto difficoltà con le piccole, ti chiedo però nella tua carriera quante volte ti è successo un, come dire, un'oscillazione di rendimento così netta? Perché siete partiti nove partite, forse anche meglio di quello che era preventivato e poi siete crollati forse più di quanto era possibile prevedere per una serie di concause. Ti è mai capitato questa cosa qui? Capita di avere quattro o cinque partite. La cosa che sinceramente ho sempre fatto nella mia cadenatura è che le sconfitte ho sempre messo un tappo, non sono mai state tante. Dunque anche in questa mini crisi che abbiamo siamo riusciti a tamponarla, vincendo la partita col Brescia purtroppo perdendo all'ultimo secondo col Cittadella e comunque pareggiando a Terni. Di conseguenza la squadra non si è mai abbandonata a una serie di sconfitte consecutive che poi hanno un peso specifico molto importante. Dunque un tampone l'abbiamo messo, abbiamo la consapevolezza che questo tampone bisogna dare seguito con prestazioni e risultati. Buonasera Eugenio, Marco Capone, Palermo Today. Nel match contro il Cosenza il Catanzaro ha assunto una strategia quasi inedita, dico quasi perché l'aveva fatto soltanto contro lo Spezia, mi riferisco al fatto di voler lasciare il possesso palla agli avversari, giocare con un baricentro più basso però a effettuare delle transizioni offensive abbastanza immediate e rapide. Io ti chiedo se ti aspetti anche domani sera questo tipo di atteggiamento e poi una domanda relativa a Claudio Gomes, intendi a non rinunciare quasi mai a Gomes, ti chiedo se anche domani pensi di farlo partire di Dolare. Grazie. Sì è vero, il Catanzaro veniva da tre sconfitte consecutive, di conseguenza qualche certezza magari in certi momenti te la può togliere, di conseguenza il Cosenza l'abbiamo visto qua, comunque è una squadra fastidiosa, ha fatto un'ottima partita il Cosenza, è stato molto bravo il Catanzaro su un primo contrattacco a trovare l'1-0, è stato molto bravo all'inizio di ripresa a trovare il 2-0 e fra virgolette ha fatto una partita fra virgolette più di contenimento e contrattacco dove quando ripartono sono molto veloci, dunque è una qualità che è una squadra anche che vuole fare un certo gioco, a volte le partite si indirizzano in una determinata maniera ed è stato importante dal loro punto di vista dopo tre sconfitte e vincere una partita l'hanno fatta con una caratteristica diversa da quella che solitamente fanno vedere, però penso che è una squadra che abbia il gusto del gioco, che voglia giocare, hanno vinto e dunque mi aspetto di vedere una squadra che è quella che poi ha sviluppato le precedenti partite con quel tipo di atteggiamento o anche in certi momenti della partita che può aspettare per riconquistare e ripartirti velocemente. Claudio è un giocatore importante e sicuramente sarà della partita domani. Buon pomeriggio, Minister Cettina Pellitteri, Azzurra News. Io mi riallaccio al fattore ambientale. Lei ha detto che il pubblico vuole vedere le vittorie. Io invece vorrei fare una piccola considerazione. Il calcio è fatto di sogni e di emozioni. Ultimamente Palermo non sta trasmettendo niente di tutto ciò e sembra che vada in campo a fare il compitino, peraltro a volte anche non molto bene e quindi il pubblico si è spazientito a mio avviso più per questo che per le sconfitte. Un'altra considerazione, lei si ricorderà benissimo una partita interna a Barbera che il Palermo perse per 1-5 con l'Udinese. Lei era il capitano di quel Palermo eppure a fine gara i tifosi si sono alzati in piedi ad applaudire la squadra. Quello che io le chiedo è questo, come si può ricostruire questo rapporto di fiducia perché Palermo aveva iniziato molto bene, si era creato un grande entusiasmo che purtroppo adesso sta scemando. Grazie. Ma io lo comprendo. Quando tu hai passione e ami qualcosa, quanto la ami a volte ti arrabbi. Di conseguenza noi viviamo un momento dove giustamente questo tipo di emozione, della delusione, quella più grande, dunque si tende a fischiare, contestare e ci sta. Ma so cosa può regalare il pubblico di Palermo. Siamo i primi a essere consapevoli che in questo momento non stiamo regalando le soddisfazioni che loro vorrebbero. Noi tutti viviamo di sogni e emozioni, però purtroppo a volte i sogni e emozioni si confrontano con la realtà che non è quella che tu vorresti. Ecco, noi dobbiamo confrontarci con una realtà che non è quella che vorremmo, ma abbiamo anche la consapevolezza e la forza che con le prestazioni e i risultati tutto questo si può ricreare. E se permetti, non parlo di mille anni fa, lo stadio con lo Spezia sanciva questo tipo di situazione. Di conseguenza non è lontanissimo, purtroppo le ultime partite hanno creato questo tipo di situazione, ma abbiamo anche per me la forza di poterlo ricreare, questo ambiente, e dobbiamo farlo giocando e facendo prestazioni vincendo le partite. Buon pomeriggio mister, Peppe Musso, ForzaPalermo.it. Mi riaggancio a quello che ha detto ora la collega. Domani per la prima volta forse in stagione ci sarà un ambiente complesso perché ci saranno anche tanti tifosi ospiti, più di mille. Però non può essere magari anche uno stimolo in più quello di dover riconquistare l'amore dei tifosi. Cioè a volte in amore, quando uno deve riconquistare, dà anche qualcosa in più. Potrebbe essere uno stimolo questo? Ma ci sono tanti gli stimoli, l'ho appena risposto a Cettina adesso, sicuramente è così. Di conseguenza c'è la volontà di reagire a uno stato di cose che non è quello che vorremmo, ma pensiamo di avere la forza per farlo. Di conseguenza è uno stimolo sicuramente in più. Eugenio, a proposito del Cosenza, del modo in cui ha affrontato il Cosenza, se dovessero ripetere lo stesso Canovaccio, temi si possa configurare la partita con l'Ecco per tipo di impostazione? E se fosse così, vista l'esperienza già fatta, sapete dove andare a correggere? Guarda, quando vuoi giocare, vuoi fare gol, è normale che qualche contrattacco lo puoi subire. Sicuramente bisogna subirli nel modo giusto, perché è fisiologico, di conseguenza sappiamo che loro in determinate situazioni possono contrattaccare rapidamente, ma vogliamo anche assumerci la responsabilità di fare una partita per provare a vincerla, con l'equilibrio che ci vuole, ma anche la spinta che vogliamo dare per far sì che il pubblico ci sostenga, capisca lo sforzo che la squadra sta facendo, perché vogliamo andare a vincere questa partita e dunque chi vuole fare la partita si assume anche qualche rischio e dobbiamo farlo nella maniera giusta e equilibrata, ma vogliamo fare un certo tipo di partita. Vado sul concreto, Lucioni è recuperato al 100%, non ci sono strasci che è l'influenza e domani può esserci spazio per Buttaro? Due giorni non si è allenato, Lucioni ha fatto la rifinitura, ha recuperato, ne parlerò con il ragazzo domani mattina e vedrò, è stata la settimana particolarmente importante per lui da questo punto di vista, però è recuperato e questa è già una notizia importante, poi parlerò con il ragazzo domani per come sta e mi hai chiesto di Buttaro, scusa? Sì, sì, Buttaro a posto.